Come bloccare le telefonate dei call center anche sui cellulari? Finalmente, finalmente, giorni contati per le chiamate dei call center e cellulari. Questi rompicoglioni che continuano a infestare, diciamo, a chiamarti per tutte le loro fregature e nonostante, diciamo, uno li mandi a cagare una volta su due e c'è uno strumento di difesa che sarà molto efficace, che dovrebbe arrivare verso l'estate. È il registro delle opposizioni. Che cos'è il registro delle opposizioni? È un servizio gratuito per dell'utente che permette di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitaria del numero di telefono in cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi di posta accettati presenti negli elenchi pubblici da parte degli operatori che svolgono attività di telemarketing o anche tramite cartaccio. Che cosa bisognerà fare? Da quest'estate, diciamo, basta per bloccare le telefonate dei call center iscriversi al registro delle opposizioni. Gli utenti che non vorranno più ricevere telefonate scassa minchia dai call center sul proprio cellulare si iscriveranno gratuitamente a questo nuovo registro, potranno farlo direttamente dal web compilando in modo elettronico oppure per telefono chiamando un numero verde che verrà istituito dal registro delle opposizioni tramite mail o tramite raccomandata. E quindi gli operatori telefonici che svolgono attività di telemarketing avranno l'obbligo di consultare il registro e il divieto di chiamare gli utenti dopo 15 giorni delle iscrizioni. Quindi le telefonate pubblicitarie potranno essere fatte soltanto ai numeri non presenti sul registro. Ecco, quindi credo che sia una cosa buona e giusta perché comunque a tutti è capitato di avere degli scassa minchia, diciamo, di call center che ti chiamano per proporti le loro minchiate per cui tra qualche mese avremo la possibilità di bloccarli alla fonte, cioè non ci scasseranno più le palle. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube Massimo Terramasco, ovviamente, crescita personale, felicità benessere, amore autostima e sul nuovissimo canale Esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco. Ciao a tutti.